a tutti scoppi e benvenuti in questo episodio aiuto aiuto con qui a me c'è marco e andea dimmi sto salendo sto salendo sono morto sono ricordato dove eravamo eravamo rimasti in un posto molto bello pieno di cast e blaze eh ma no vedi dove cate cadevamo nel vuoto ah ovviamente Giacomo ma se tu scusa vuoi dire una scada in pietra io tra l'altro ah io ce l'ho in ferro e mi va bene ah ah giù, ah è vero io mi vuoi venire vieni essi no ma ma dici ho fatica di scavo aspetta no dici così magari no lui no dimmi ah dove sta oltre ma come si fa ad andare oltre no Andrea ma te ne stiamo vi immaginate questa CTM in adco sì è finissima proprio in difficoltà pacifica al massimo muori dalla lava dalla lava o muori da fu dai che lo stavo facendo più tanto ho ok per pietro non posso pall la inizio prevolto non so tra gli uccanini Ma poca puttana Ecco ecco Io so sopra Io non vedo niente Io ho detto dentro Non ho detto mai sopra Allora faccio una cosa Mi uccido Si è trovata la lana Si dovrebbe essere trovata la lana Ricorda poi io muoio Magari mi aspettavate Marco non possiamo aspettare Vabbè Ah si Marco gli si è spento il telefono Ci sta caricando Punto Ora se Lana Porco dio Lana Prendine una Usiamo da qua No no vieni Vieni Usiamo da qua Ok Faccio così guarda Muogliamo Lanna Prendi i letti Aspetta 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 Marco Vieni Aspetta no 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 Vieni Vicino al pulciante Io sono uscito Io sono uscito Io sono uscito No sto per morire Giacomo Ok Aiuto No Giacomo Dimmi No Marco è rimasto Oh Guarda dietro di te Magali Marco 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 sta No di nuovo No 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 Stai come Aspetta Sono all'inizio Della mappa Dio Porco Ciao Motto Fermo 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 Ande Fermo Fammi passapia a me Se muoio Almeno Mi tipizzo da te Sono passato Vieni Sì tranquilli Io sto Allora Slash TP Matani Ande Scoppio Ragazzi ma Perché siamo Si sta andando via Se la lana Fote sega Di tutto Aspetta aspetta Marco Tieni Marco Tieni Tieni questa Tieni questa Madonna come l'aga In questo posto Andiamo Andiamo Fote sega Di tutto Andiamo Stavano due lane Sono te in tutto Corri Marco Posso farvi una domanda Come facciamo a risalire Ehm Bella domanda Forse non avremmo Tutto a fare i detti No Almeno uno Tenello Ehm Giacomo No ragazzi Forse vi posso farvi Tutto il tragitto Sì Fare tutto L'inizio Fino alla fine Ehm Sì Sono già arrivati Ma guarda Guarda che sono la strada Guarda che sono la strada No la terza è facile Perché ora tutta la strada Si è fatta Si aperta tutto il valco Quindi basta solo aspettare lui E ti pizzazzi Sì peccato che ci sono Di tipo 40 milioni Di mob spawner Questo è il problema Marco non mi lascia solo Ok Però è bello Guarda Oh guarda No no Vieni Dai guarda però su Non mi lascia solo Dove sei Marco Marco vieni con me No Al mostro viene Giacomo Veramente Ma lo uccidiamo Facciamo una cosa Se non lo si chiede da noi Noi lo uccidiamo Ehm 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 Il letto Non ce l'ho Ecco Ma io ti ho fuori le nuvole Andiamo Eh lo devi disattivare Ehm Ehm Io pensavo che era di buona cosa Nella sera Ma ecco perché non la voce Si attivate C'è un po' di gente Giacomo Giacomo Per una volta Andrea Andrea mi vuoi uccidere Perché non voglio morire Ragazzi guardate tu Oh i blocchi Dio ti ringrazio C'è i blocchi Una spada con Beh Mi copi Devo uccidere qua Devo uccidere qua Timeline È il dio Dell'assenza Ehm Le sue guardie Ok Ok ho capito Che praticamente Dobbiamo battere un set Time to slide Che è il dio del silenzio Salutamelo Non posso Perché al suo cospetto Bisogna stare in silenzio Salutamelo Dimmi Andiamo 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 Dicodate cosa bisogna fare Ma una cosa è sotto il buco cosa c'è Cosa c'è Io sto lasciando Io sto lasciando Madonna come lagga Sì ma Andrea posso farti una domanda Con le bottiglie di cattagione Che ce ne facciamo se moriamo ogni due secondi Madonna ma mi lagga tantissimo lì Non riesco ad aprire Bello Bello Le tocce No Boh Mi lagga tantissimo Sono vivo con un cuore No Io non riesco più nemmeno a saltare Da quanto mi lagga Opzioni Le possibilità che mi sponava uno scheletro da un centimetro di distanza da me Per sapere Anche se potevo bere la pozza di rigenerazione La 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 Ma se io prendo questa sonse no E tipo ci faccio un piccolo ponte per levare il buco che tanto piace da Andrea Di questa qua all'inizio Bella Sì ok No aspetta Aspetta Ma voglio esserci anche io Giacomo ho trovato un tuo compare Anch'io me lo son trovato Proprio davanti Stavo per moglie Con lui Io ho trovato un po' Ma un po' di creeper Ahia Però grazie al rinculo che mi danno i creeper Vado più Riesco ad andare sempre più avanti Non mi ucciderete mai Invece si Creper Schifoso creeper Un cuore di nuovo Ci sono un sacco di ceste non le posso più perché dietro al mondo Giacomo mi TPG Mi stufa fare tutta la strada One moment Non c'è nemmeno io dove sto andando No aspetta Perché sono morto L'agno E infatti Mi larga Non riesco più a fare nulla Ciao Eh ciao Sì vabbè Voi avete l'armatura De 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 chissà che Io non ho Tieni Me la scelta il pesaglio Tieni Ciao Vabbè Vabbè Ciao Pagate Bob Vabbè andiamo andiamo buongiorno ma raga qua non c'è niente chi è che ha avuto l'idea di portarci sono vivo tranquilli non c'è bisogno che vi preoccupate di me non c'è bisogno aspettate finta come scava io ti sto dietro non mi attaccare io non ti attacco non ci rompe cosa non si rompe legno ah no ma è carbone grazie al cazzo io non si rompe cosa lei io ti vedo che hai detto legno e ti stavo vedendo che stavi colpendo il carbone se noi dobbiamo dove dobbiamo andare si io so dove dobbiamo andare perché tipo ti spiego appena siamo usciti da quando siamo usciti dalla la strada è dove c'è la casa sull'albero no dall'intersezione dove dobbiamo andare sempre dritti a un certo punto c'è un enorme muro pieno di viane come questo alla fine che in pratica ci porta in se andiamo in alto in alto ho visto che tipo c'era una stanza ma però sai che farei io eh vieni a prendere quella testa quale niente scherziamo aspettati era lì bastava solo scendere e andare in quella in quel punto giacomo eh ho trovato il libro lo vuoi leggere o quello devo buttarmela fa da leggmelo fammelo leggere dopo oh cacchio forse di si aspetti che io ora sono leggermente nei guai prima che butto fuori una maia maia la a causa della pozza di veleno ho saltato il salto mi si è annullato perchè ho preso danno poi intanto perché io ho ok hai detto in alto ma dove ci sono anche ma ci sono delle zucche va bene? un paio di griffa e per questo episodio è finito chissà se troveremo la lana proprio sopra questa montagna dove aveva detto Marta comunque mi dispiace molto per l'audio ma me lo fa soltanto su minecraft questo suono cercherò subito dell'immedia intanto noi ci vediamo al prossimo video e ciao scoppioni ciao